Benvenuti, benvenuti a tutti, Hare Krishna. Allora, siamo arrivati al nostro quarantesimo incontro. Aspettate che mi è... ok, perfetto. Siamo arrivati al nostro quarantesimo incontro, siamo alla fine del tredicesimo capitolo dell'undicesimo canto della Bhagavata Purana, dello Srimad Bhagavata e l'argomento è Amsa risponde ai figli di Brahma, cioè ai quattro Kumara. Vi ricordate Amsa Avatara, che è l'Avatara Cigno. Non viene tra l'altro descritto in modo così articolato, non viene semplicemente appare questo Amsa, noi sappiamo che è Cigno e incominciano subito con le domande. I quattro Kumara incominciano con le domande e che la domanda principe è chi sei? E da lì abbiamo visto che parte Amsa in modo estremamente preciso, intelligente, mirato proprio. E davanti, ricordiamo, a Brahma, il primo essere dell'universo e l'ultimo dell'universo. E i suoi figli, i quattro Kumara, che sono persone più nella storia che noi conosciamo del Bhagavatam, tra le persone più sagge, insomma, è capace così di andare direttamente a Vaikunta, insomma, capace di muoversi nell'universo e oltre in modo autonomo. Bene, allora, eravamo arrivati al verso 36. Nel verso 36-37 si parla della coscienza di chi è, di chi è, cioè dell'anima realizzata. E lo fa, abbiamo visto Krishna, ci stiamo abituando al modo in cui ha di esporre concetti filosofici. Vediamo che usa delle immagini, delle analogie, delle storie, dei racconti. Molto, molto, cioè stimola molto la visualizzazione, secondo me, questo Ludhava Gita in generale. rispetto, ne parlavo proprio qualche giorno fa con Ghiridari Prabhu, rispetto alla Bhagavad Gita, che invece è più sintetica, più stringente, insomma, perché lo scenario è quello, l'obiettivo è un altro, le condizioni sono completamente diverse, quindi è molto più stringente, più tecnica, mentre qui, proprio, vediamo Krishna che si prende il tempo, ma proprio usa degli stratagemmi retorici, anche. Leggo, giusto per continuità, il verso 35, ma per andare avanti, giusto per connettermi alla volta scorsa. Avendo compreso la natura temporanea e illusoria delle cose materiali, e avendo quindi allontanato la propria attenzione da ciò che è illusorio, si dovrebbe raggiungere la libertà dai desideri materiali. Sperimentando la felicità dell'anima, si devono abbandonare le attività e le conversazioni materiali. Non vuol dire che non dobbiamo parlare con nessuno, ma, insomma, il punto è, lo stiamo capendo, insomma, anche questo tipo di linguaggio. È un linguaggio estremamente scientifico, cioè, guarda, proprio, la realtà è questa, e quindi quella esprime. E se a volte può essere necessario, continuo al verso, osservare il mondo materiale, quindi noi, visto che abbiamo capito che è illusorio, tiriamo via l'attenzione. L'attenzione vuol dire che, cioè, l'attenzione nostra è quella che conferma il mondo. Cioè, quando ne diamo attenzione a qualcosa, è come se lo confermassimo. E quindi da là si possono aprire tante riflessioni su, a parte il mondo, su cosa del mondo, a cosa del mondo ne facciamo attenzione. Ecco, se a volte può essere necessario osservare il mondo materiale, bisognerebbe sempre ricordare che esso non è la realtà definitiva. Ed è proprio per questo motivo che lo si è abbandonato. Vi ricordate che la scorsa volta che dobbiamo ricordarci, perché abbiamo fatto, in alcuni momenti abbiamo fatto delle scelte di campo. A volte ci si dimentica, oppure a volte si entra in confusione, a volte si è confusi dal mondo, perché il mondo è, insomma, non è così una cosa così, non è uno svolazzo di fumo, o così qualcosa da cui svegliarsi, con uno scossone, o con un rumore forte, noi ci svegliamo, è finito tutto. No, no, è qualcosa che è estremamente, cioè un'energia estremamente forte, estremamente intrusiva, diciamo. Se si manterrà questo ricordo fino al momento della morte, non si cadrà più nell'illusione. Quindi bisogna ricordarsi. Quindi Krishna, lo scorso verso, ci diceva, ricordatevi perché avete scelto quello, va bene? Perché ricordando, solo non cadrete nella confusione delle cose del mondo, ma gusterete anzi una felicità che è oltre a questa dimensione. Adesso entriamo nel verso 36, che è molto bello. Come un ubriaco, questa è l'analogia, come un ubriaco non nota se sta indossando la camicia o la giacca, così la persona che è perfetta nella realizzazione del sé e ha quindi raggiunto la sua identità eterna, non nota se il suo corpo temporaneo è seduto o è in piedi, se per la volontà di Dio il suo corpo è distrutto o se per la volontà di Dio ottiene un nuovo corpo, un'anima realizzato non lo nota, proprio come un ubriaco non nota la condizione del suo vestito. Quindi questa è bella perché è un'analogia al contrario, vi ricordate, abbiamo più volte citato Pramatta, che ha Pramatta, cioè è una qualità, cioè la sobrietà, ed è il contrario di Pramatta che è la pazzia e come dire, il collegamento è proprio una persona ubriaca che fa cose che non c'entrano niente con la realtà e quindi abbiamo, e quindi come dire, è una, si richiama la persona ubriaca come elemento negativo, in questo caso lo si richiama come elemento positivo, vedete anche quanto creativa è Ludovaguita. Io avevo, cioè ho un amico che, mi ricordo quando eravamo giovani entrambi, insomma, non avevamo ancora così intrapreso nessun cammino, insomma, mi ricordo che lui, era una cosa che mi è rimasta sempre impressa, mi ricordo che, così vivevamo la serata, così sabato sera, lui beveva, anch'io all'epoca bevevo, e lui beveva così tanto che aveva proprio dei vuoti, cioè aveva dei vuoti di memoria, ma non che, come dire, durante quei momenti fosse, come dire, non cosciente, quindi non so, in un divano, da qualche, no, no, era, faceva le sue cose, parlava, ballava, faceva le sue cose, ma il giorno dopo aveva completamente perso la cognizione di quello che era successo. Ed è questo proprio, cioè, l'ubriaco non ha una cognizione di quello che succede, non ce l'ha, cioè dopo ci sono vari livelli, non vuol dire, non è un bicchiere che ti porta a questa, a questa cognizione, proprio qua parla, sta parlando di un ubriaco sul serio, cioè di qualcuno che ha bevuto veramente molto, veramente molto, che tanto è che non riesce a capire neanche se ha una giacca, un vestito su, cioè non ha proprio coscienza di sé, cioè, quindi vuol dire, cioè, quante cose non è cosciente, ecco, come questo, però, la parte positiva è che una persona che ha realizzato il sé, qua, è un'anima realizzata, non nota, cioè, non presta attenzione, perché non lo fa, perché non lo fa, perché non presta attenzione a questa cosa qua, magari presta attenzione, che ne so, alle chiavi che ha perso, davanti alla macchina, che ne so, quello magari è l'attenzione che sta cercando, eccetera, ma non presta attenzione al resto, quindi potrebbe essere anche, che ne so, in pieno inverno, le manichette corte, perché si è tolto la camicia dentro, che adesso sto così, sto immaginando una scena, dentro il locale, ballando, è dopo uscito, e siccome è ubriaco, non si rende conto che la temperatura è cambiata, tante volte, ho visto tante volte questa scena, proprio non si rende, cioè non nota quella cosa, tu da fuori lo noti, ma lui non lo nota, quindi al contrario, un'anima realizzata, tu da fuori noti, quando è in piedi, quando seduto, ovviamente, ovviamente, tu da fuori noti, quando il suo corpo, addirittura, il corpo distrutto, prende un altro corpo, adesso che ha finito un corpo, e ne usa un altro, ma lui non lo nota, perché? Perché non pone attenzione, non pone attenzione all'elemento corpo, cioè non pone attenzione all'elemento sogno, quello che adesso richiameremo adesso, nel verso 37, infatti, Krishna dice, il corpo materiale si muove certamente, certamente, proprio usa, qua usa proprio, e va, cioè certamente, sotto il controllo del destino supremo, che è il karma, perciò deve continuare a vivere insieme ai sensi, e all'aria vitale, finché l'effetto del karma perdura, tuttavia, un'anima realizzata, che si è risvegliata alla realtà assoluta, e ha quindi raggiunto lo stato più alto dello yoga, non si sottometterà mai più al corpo materiale e le sue molteplici manifestazioni, sapendo bene, che esso è del tutto simile, a un corpo visualizzato, in un sogno, e qua ci soffermiamo su due aspetti, tre aspetti, il primo, quanto è scritto deve continuare a vivere, ossia anche come ricordano nel commento, giustamente, che è un commento breve, ma abbastanza intenso, se ne sono dieci lì che sono dicono molto, comunque, si continua a prendere cura del corpo, non è che un'anima realizzata, allora, così, si lascia morire, cioè, e quindi, si lascia morire, poi va bene, sembra un po' esagerato, ma, ci sono tanti, come dire, tante modalità di vita, che, in effetti, si stanno lasciando morire, cioè, in effetti, lo stanno facendo, magari a lungo termine, magari non, è così di inedia, in qualche giorno, ma, si stanno, cioè, assumono un comportamento, che è distruttivo per il corpo, per la mente, è distruttivo, quindi, non potrà altro che portare a, morire tipo anzitempo, quindi, invece, qua, poi dice, deve continuare a vivere, ma è che solo perché ha capito, lui, tac, fa l'off, e se ne va da un'altra parte, lui continua a vivere, finché, l'effetto del karma perdura, perché quello è, cioè, il karma è in varie modalità, diciamo, la più semplice categorizzazione è, con, come dire, frutti maturi, o frutti non maturi, poi ci sono anche i semi, ok, però frutti maturi, e frutti non maturi, quindi il karma che è sbocciato, che è quello che mi dà, questi occhi, questa conformazione fisica, questa voce, questi, questi capelli, cioè le cose che io ho intorno, insomma, questo è il karma, il karma che deve ancora venire, è quello che dovrò ancora scoprire, perché arriva da vite passate, o, o alcuna, qualche karma è quello che sto creando io in vita, e quindi, come dire, ha frutti veloci, ma, ma, una parte del karma è quello che man mano, mi sta arrivando, dal, dall'enorme bagaglio che ho, perché ho un bagaglio enorme di karma, non pensiamo che la nostra vita sia il karma, cioè noi abbiamo un bagaglio enorme di karma, e pian piano viene, così viene, così dato, attraverso la nostra nascita, e quindi, non so, nella astrologia vedica, attraverso i pianeti, sono loro che conferiscono il karma, quindi le personalità planetarie, e dopo un altro punto, quindi, quello, cioè, uno dovrebbe vivere la sua vita, anche se, appunto, è realizzato, ha avuto la conoscenza, ha ricevuto la conoscenza, si sente, insomma, che, adesso non lo so come può sentirsi, però immagino, si sente un po', oltre alle cose del mondo, però, comunque, le cose possono succedere, anche noi, quando valutiamo gli altri, non pensiamo, ah, quello ha, non so, ha fatto un incidente, quindi vuol dire che, può essere tranquillamente un'anima, che ha avuto l'ultima vita, sta facendo proprio gli ultimi, gli ultimi rimasugli, e poi se ne va, quindi stiamo anche attenti noi a, come dire, a valutare anche gli altri, ma visto che prima sembrava tanto uno spiritualista, poi ha avuto questo problema, e quindi, e quindi vuol dire, cioè, noi veramente vediamo così poco di quello, di quello che ci compete, figuriamoci sugli altri, cioè, capiamo così poco su di noi, di come il karma agisce, il destino supremo agisce su di noi, figuriamoci, tentare di fare, come dire, anche, come dire, anche una considerazione sugli altri, proprio è un atto estremo, un atto estremo, a volte facciamo molto di più che una considerazione, ovviamente, anche io, e poi l'ultimo punto è che questo corpo è del tutto simile a un corpo visualizzato in un sogno, cioè, questa immagine che Krishna sta portando avanti per più capitoli, non è così, l'ubriaco magari non lo vedremo più, o altre immagini che c'è dato, magari non le vedremo più, così le ha dette, adesso ci rimane, insomma, secondo me è una bella immagine questa, quella che ci ha appena dato dell'ubriaco, anche perché comunque anche delle cose più così, più, diciamo, basse, più, che noi pensiamo, degradate, comunque possiamo avere un insegnamento, vedete, anche, cioè, possiamo comunque connetterci sempre alla verità, a una verità alta, sempre, in ogni situazione, diciamo, non c'è una situazione in cui, ah, qua, qua non c'entra, qua non si infila, c'è sempre qualcosa che possiamo imparare, e anche delle nostre esperienze, ovviamente, e, dice, appunto, questa, questa immagine del corpo del sogno, cioè del corpo nostro, che all'esatta, dice, è del tutto simile, oppure all'esatta consistenza, diceva in un altro verso, del sogno, è qualcosa che su cui, così, ogni volta che leggo, mi fa molto riflettere, perché, insomma, è un'immagine veramente, tanto, tanto, forte, secondo me, cioè, che, che dovrebbe, cambiare radicalmente, ecco, i nostri paradigmi, qua, ehm, leggo, ecco, se, ehm, le leggo una parte del verso, dice, considerando ciò, potrebbe sorgere un dubbio, quello del mantenimento del corpo, del karma, se una persona cosciente di Krishna, presta attenzione, l'attenzione necessaria, al mantenimento del corpo, non esiste il pericolo, che si attacchi di nuovo adesso, cioè, dicevamo che noi, che deve vivere, cioè, noi dobbiamo prenderci cura del corpo, c'è Prabhupada, nell'Upa Deschamrita, nella Shri, Upa Deschamrita, che parla proprio di questi due, no, scusate, Shri Chopanishad, parla proprio di questi due binari, cioè, che dobbiamo mantenere il corpo, e, e, e lo spirito, cioè, corpo e coscienza, corpo e anima, cioè, fare, come dire, portarli avanti entrambi, non, guardando uno, come tanti, come alcuni, insomma, percorsi, magari, alcuni percorsi guardano al primo, al corpo, come dire, eliminando completamente, qualsiasi riflessione sul secondo, altri, invece, magari si concentrano un secondo, però denigrando, comunque, eliminando proprio la considerazione sul primo, invece, bisogna trovare, cioè, è un sentiero a due binari, è un sentiero a due binari, che noi dobbiamo portare avanti, ovviamente, non dando troppa importanza al primo, al corpo, perché, cioè, proprio si dice, la Bhagavad Gita, il capitolo 13, dice proprio, in un commento, dice, dovremmo mantenere il corpo, per, è come dire, per, la frase è, proprio per, farlo rimanere, cioè, rimanere il corpo attaccato all'anima, cioè, per, come dire, per rimanere in vita, cioè, avere esigenze, comunque semplici, ecco, non da là, adesso partire con, adesso, tutto corpo, poi, per svolgere il nostro compito, per svolgere il nostro dovere, e per svolgere le nostre pratiche, e dice, non c'è pericolo che rimaniamo attaccati adesso, Shri Krishna afferma qui, che la persona molto elevata, nella coscienza di Krishna, avendo compreso che Krishna, è il vero Vastu, la realtà, è la scelta dell'architettura, che ho studiato in modo approfondito, che proprio è, parla della concretezza, parla della, come dire, della terra, poi c'è Vastu, Vastu, insomma, però, insomma, è proprio la realtà delle cose, non si arrende più all'illusione, all'illusione, all'identificazione col corpo materiale, che è del tutto simile a un corpo, che si può vedere in un sogno, cioè, non è perché noi immaginiamoci, quando siamo, è capitato qualche giorno fa, in un sogno, a un certo punto ho capito che era un sogno, e quindi, non è che, da lì, cioè, nel momento in cui capisci che è il sogno, hai dei momenti in cui puoi sognare, ma sei lucido, cioè, lo sai che stai sognando, e magari, fai le tue esperienze, magari, vuoi andare a fondo di quella cosa lì, vuoi, ma, insomma, agisci proprio in un altro modo, prima sei passivo, poi diventi attivo, incominci a dire, ok, adesso guardo, non lo so, devo fare una cosa, adesso guardo, sicuramente in tasca avrò quello, che mi servirà per, eccetera, 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 non adesso la paura, non avrò, e dopo parte il sogno, come dire, parte l'incubo che non sia la cosa, eccetera, eccetera, ma, come dire, non so se vi è capitato mai, insomma, però ci sono dei momenti di sprazio, di lucidità in un sogno, è proprio così, cioè, anche qua, cioè, a un certo punto, l'anima realizzata è lucida, lei sa come comportarsi, sa che questo corpo è un sogno, sa che deve compiere delle cose, sa che può diventare uno strumento divino, e diventa uno strumento divino, forse un altro, qualche verso più avanti, nel commento di Bhakti Siddhanta, ci può aiutare in questo, verso 38 e 40, finalmente, Lam Savatara risponde alla domanda, chi è? La prima domanda, vi ricordate, che appunto, i quattro Kumara, la prima cosa che hanno detto, ma tu chi sei? E lui ha incominciato ad aprire l'argomento, ma se intendi questo, quando dici chi sei, allora, sappi che, non è una domanda intelligente, ma se intendi qualcos'altro, ancora, anche questa, ti sta portando fuori strada, è partito da lì, cioè, dando un po' di, come dire, di lezioni, proprio di logica, e adesso, finalmente, ha detto tutte le cose, ha fatto capire, ha dato il quadro, della situazione, e adesso dice, finalmente, chi è? Miei cari Brahmana, siamo nel verso 38, miei cari Brahmana, vi ho spiegato, finora, la conoscenza confidenziale del Sankhya, che permette di distinguere, filosoficamente, quindi, con la logica, lo spirito della materia, e anche quella della Stanga Yoga, con il quale ci si unisce al Supremo, vi prego di capire, e qua, eccola, che io sono Dio, la persona Suprema, Vishnu, e che sono appasso davanti a voi, col desiderio di spiegare, i vostri effettivi doveri religiosi, ricordate la domanda iniziale, dei Kumara, che, quando andando avanti, a 4, 5, pochi, insomma, versi alla volta, si rischia di perdere qualche pezzo, in effetti, cioè, ha il vantaggio che andiamo un po' in profondità, però si rischia di perdere qualche pezzo, questo ne sono consapevole, e sto prendendo anche un grande rischio, insomma, perché comunque i capitoli sono tanti, i 4 Kumara avevano chiesto a Brahma, ma come faccio a interrompere il flusso tra mente, oggetti dei sensi, e gli oggetti dei sensi che entrano nella mente, ricordate, questa era la domanda iniziale, e dopo Brahma non è in grado di rispondere, appare la Amsavatara, che invece è in grado di rispondere, quindi dice, io ti ho spiegato il Sankhya, che distingue la materia dello spirito, ti ho spiegato lo Stanga, che parla di come connette, con il Supremo, c'è anche il Ghyana, che invece distingue il corpo dall'anima, quindi Ghyana distingue il corpo dall'anima, il Sankhya distingue la materia dallo spirito, e il Stanga dice, insomma, insegna come connettersi con il Supremo, ovviamente oltre c'è, lo vedremo nel prossimo capitolo, oltre c'è il Bhakti, Yoga, che è oltre a questo, completamente trascendentale, non è solo una comprensione, è proprio una realizzazione, come dire, completa. Nel verso 39, dice, O migliore tra i Brahmana, sappiate che io sono il Rifugio Supremo, del metodo dello Yoga, della filosofia analitica, dell'azione virtuosa, dei principi religiosi, del potere, della bellezza, della fama, e dell'autocontrollo. Cioè io sono, come dire, io sono il sumo un buono di questi, sta dicendo alcune qualità, no? La bellezza, la fama, l'azione virtuosa, anche perché, nel verso, Vishwanta Chakravartitakur, vi ricordate che dicevamo, Vishwanta Chakravartitakur, un'accharia, estremamente, evoluto proprio, e lui nei commenti, spesso, come dire, elabora, il dialogo che ci sono, cioè, come dire, aggiunge un po' di dialogo, come in una connessione, così, in una connessione, della sua anima, come dire, si vede la scena, e aggiunge qualcosa, e dice, in questo, in questa, come dire, in questo momento, i quattro Kumara, stanno proprio, dice, stanno proprio pensando, che conoscenza meravigliosa, abbiamo appena ricevuto, cioè, che cose inaudite, abbiamo appena ascoltato, cioè, ci ha detto delle cose, che prima noi eravamo la mente, oggetti, e lui ci sta dicendo, che è un sogno, ci sta dicendo, che è oltre la veglia, il sogno, il sonno, è oltre, c'è qualcosa di oltre, ci sta dicendo, delle cose incredibili, e quindi, per cui lui dice, io sono rifugio supremo, di tutto questo, e dopo, va avanti, dicendo, e qua leggeremo qualche, qualche punto del commento, tutte le qualità trascendentali, superiore, superiori, cioè, le qualità, non le qualità materiali, ma poi le qualità vere, come essere al di là delle influenze, della natura, cioè, essere al di là dei guna, ma sarà già sessato, essere oltre, quindi, essere distaccato, essere il benefattore, essere il più caro, l'anima suprema, ugualmente presente in ogni luogo, e libera da ogni legame materiale, tutte queste qualità, esenti, dalle trasformazioni proprie, delle qualità materiali, quindi sono qualità eterne, piene, colme, non temporanee, che vanno su e giù, trovano in me, il loro rifugio, e il loro oggetto di adorazione, cioè, io, come dire, sono, tutte queste qualità, perché lui ha appena detto, di essere Dio la persona suprema, e di essere, il supremo rifugio, e allora, i quattro Kumara, potrebbero, dice, vissi, vantacca a gravarti qua, Takur sempre, che lui ci mette, come dire, nel dialogo interiore degli altri, i quattro Kumara, potrebbero pensare, eh, vabbè, ha un po' di orgoglio, nel senso, sta dicendo anche delle cose un po', un po' forti, questo essere, sì, ci ha detto delle cose interessanti, però, insomma, e allora, invece, Lam Savatara dice, attenzione, perché io ho tutte queste qualità trascendentali, io sono libero dall'egotismo, cioè, io, io, cioè, tutte queste qualità trovano in me, il loro rifugio, sono il loro oggetto di adorazione, cioè, non sono solo la qualità, sono l'oggetto di adorazione, di quella qualità, cioè, sono qualcosa di anche oltre a questo, non solo le vivo pienamente, ma sono oltre a questo, e qua, ci sono, c'è un bel, un bel pezzo che le spiega, e dice, la forma trascendentale, perché il, il verso, cioè, proprio le cita, nir gunam, nira pekshakam, suridam, priam, atmanam, samya sangadayoguna, e dice, la forma trascendentale del Signore è eterna, piena di felicità e conoscenza, ed è questo, ed è quindi nir gunam, nir gunam vuol dire al di là delle tre influenze, nel gunam, nir, guma, guna, le tre influenze, nir è privativo, poiché ignora completamente il cosiddetto piacere offerto dall'energia illusoria, il Signore è chiamato nira pekshakam, ed essendo il benefattore dei suoi devoti, è chiamato suridam, vi ricordate nel Bhagavad Gita 5.29, che dice, suridam sarva bhutanam, yaghyatvam shantim ritchati, bokhtaram yaghyatapassam sarvalokam aheshwaram, suridam sarva bhutanam, quello che questo verso, Prabhupada lo indica come il verso della pace, cioè la formula della pace, nel momento in cui abbiamo capito queste tre caratteristiche del Signore, che è tutto suo, che tutto ciò che facciamo porta a Lui, cioè Lui il beneficiario supremo, è Lui il sarvalokam aheshwara, è Lui il Signore di tutti i mondi, quindi di tutto quello, cioè non solo dei mondi, ma di tutto ciò che è attorno a noi, quindi è Lui l'unico proprietario, noi abbiamo in cura qualcosa, una piccola parte, ma più che altro è questo, è il suridam sarva bhutanam, è l'amico più intimo, più caro dell'essere vivente. Nel momento in cui abbiamo capito profondamente questi tre aspetti, otterremo Yaghyatvam Shantim Ritchatim, otterremo la pace, Shantim Ritchatim, cioè proprio la otterremo la pace. Dopo Priyam indica che il Signore è l'oggetto d'amore supremo, e scambia meravigliose relazioni d'affetto con i Suoi devoti, molto bello. Samia indica che il Signore è neutrale, è distaccato in tutte le situazioni materiali. Yaghyat Sama è anche una qualità dell'essere del ricercatore spirituale che vede, come dire, equanim verso tutti. In realtà le qualità del Signore sono illimitate, leggo la fine, ma è dato qui un piccolo esempio solo per stabilire la posizione trascendentale del Signore. Di qualità ne troviamo molte, qua dice, le troviamo nel primo canto, quando Bumi, la personificazione della terra, le Madre Bumi, elenca le qualità del Signore, oppure ci sono nella terra della devozione, insomma ci sono molte qualità del Signore, 64 qualità, sono molte proprio. Insomma ci sono vari punti dove, oppure noi possiamo vedere anche le 26 qualità che noi, che è il ricercatore spirituale, perché, come dire, noi le abbiamo, ma perché le abbiamo? Perché Lui le ha, in pieno sviluppo, in completo, In pieno, proprio in completezza, nella piena completezza, se ha un senso, piena completezza. E poi, il verso 41, 42, bene, sono contento, arriviamo alla fine di questo, di questo, di questo capitolo. Shri Krishna continuò, mio caro Uddhava, così, tutti i dubbi dei saggi guiati da Sanaka furono distrutti dalle mie parole. Quindi Krishna, adesso vedi, si, come dire, si identifica con l'Amsavatara. Adorandomi pienamente con amore e devozione trascendentale, essi cantarono le mie glorie, le mie glorie, con inni meravigliosi. E questo è, come dire, il primo effetto. cioè l'effetto della realizzazione spirituale è la prima la gratitudine, cioè la pienezza, la gioia, e poi il cantare le glorie. Proprio questo lo troviamo sempre, lo troviamo nella Bibbia, lo troviamo nel Vangelo, lo troviamo in tutti i testi autorevoli. Cioè che proprio è anche la fine di una preghiera, anche l'inizio di una preghiera, ma anche la fine di una preghiera è cantare le glorie, perché la preghiera, come dire, non è una, un'implorazione, ma è una coscienza che qualcosa ci è stato già dato, che quello che dobbiamo ricevere ci è già dato. Non è, no, Krishna, il Signore non è che aspetta adesso un momento, cioè quando noi chiediamo con cuore aperto, vero, quando veramente desideriamo qualcosa, Lui ce l'ha già data. E noi ci rendiamo conto di questo. Quindi subito dopo è la glorificazione della Sua meraviglia, della Sua potenza, della Sua grazia, della Sua grazia salvifica. insomma, ogni gloria ha un po' il suo aspetto, ma questo è, cioè la lode è una delle prime espressioni della realizzazione spirituale. Cioè non può fare a meno di lodare. Cioè, come dire, è, vi ricordate Oprarad Maraj quando appare Nishingadeva oppure Druva Maraj quando chiede quando fa le penitenze, fa l'austerità per poter vedere Vishnu e lui appare. e lui vuole subito dire qualcosa magari lui non ce la fa allora arriva come dire, arriva sia Nishingadeva che mette la mano sul capo di Prarad Maraj sia Vishnu che mette la conchiglia sulla testa di Druva Maraj e poi allora la parte la lode. Proprio è la prima cosa che sgorga dall'anima e la lode al Signore è la prima cosa. Fu così leggo l'ultimo verso che i più grandi tra i saggi guidati da Sanakarishi che è uno dei Komara mi adorarono e mi glorificarono perfettamente poi seguito dallo sguardo di Brahma tornai alla mia dimora e anche questa è una bella immagine cioè non è che è semplicemente scomparso alla vista ma seguito dallo sguardo vuol dire che l'Ansavatara è partito cioè è partito e Brahma segue quello sguardo lui che va non è apparso come un sogno cioè lui non è l'illusione lui è la realtà quindi in questo caso qua dopo può anche scomparire perché anche Vishnu è arrivato però di solito arriva proprio col suo strumento con Garuda ad esempio quindi è proprio è arrivato perché quando si aprono le porte della realtà l'illusione svanisce non c'è più qualcosa così ma uno arriva e uno va ma perché abbiamo gli occhi che stiamo guardando la realtà non siamo più nel mondo illusorio dove le cose arrivano e scompaiono come nel sogno che c'è qualcosa e poi arriva un'altra immagine adesso gli occhi sono aperti e i quattro Kumara hanno aperto gli occhi finalmente prima non riuscivano a capire la realtà non riuscivano a capire la mente non riuscivano a capire gli oggetti di sensi che sono cose che noi non c'è noi non riusciamo a capire ma per dire che sono come dire non riuscivano a capire il funzionamento del mondo e si immaginavano una tecnica uno stratageme per interrompere quando quando arriva Hamza lui capovolge completamente il loro paradigma che è quella la forza della rivelazione che non è attraverso una tecnica ma attraverso un abbandono che si arriva alla realizzazione suprema è proprio attraverso un cambio completo non si mettono a fare si mettono semplicemente una cosa semplice quello che fa si mettono ad adorarlo con amore e devozione a cantare le sue glorie e glorificarlo a lodarlo quindi ad adorarlo a lodarlo quindi cosa ci tiene così da domandarsi cosa ci tiene lontano da questo vediamo visto che ho parlato Luciano Hare Krishna Massimiliano Hare Krishna Eros benvenuti grazie 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 per essere presenti proseguiamo iniziamo capitolo 14 forse cambierò il nome a questo a questo a questo a questo a questo a questo incontro nel capitolo 14 viene intitolato capitolo 14 viene intitolato Shri Krishna spiega a Udhava il metodo dello yoga cioè qui nel capitolo 14 entriamo nella come dire nella spiegazione di che cos'è lo yoga perché ce ne sono tanti ma soprattutto qual è la posizione del bhakti yoga cioè qual è la posizione della devozione al Signore cioè nel quadro generale come dire nella prospettiva dei sentieri vedici che ruolo hanno i vari sentieri e che ruolo ha il bhakti yoga per Krishna cioè nel senso secondo Krishna allora dal verso 1 all'11 appunto Krishna cita vari sentieri e li inserisce nello scenario vedico nella prospettiva vedica nei versi 1-2 in particolare incominciamo cioè Udhava ovviamente finora ecco qual è il come dire i passaggi che ci sono cioè che vediamo insomma la struttura narrativa la struttura narrativa che vediamo finora è Udhava pone delle domande Krishna risponde e non finisce lì cioè Udhava continua a porre domande vedete anche è un aspetto che mi ha sempre interessato questo cioè il fatto che è la domanda che porta a conoscenza cioè è la domanda che stimola il signore a rivelare qualcosa non è che lui arriva e ti dice adesso ti dico io le cose come stanno zitto e ti dico io quello che devi sapere no cioè la conoscenza viene trasmettita attraverso cioè viene suscitata dal cuore di un devoto questo cioè Krishna si espone e si rivela attraverso le domande compassionevoli di un devoto non si rivela così non so se ci avete fatto caso beh sicuramente ci avete fatto caso quindi la domanda ripetuta non è sintomo di ignoranza cioè sintomo di duro comprendonio ma è proprio sintomo di interesse maggiore sempre maggiore è come Pariksit Maraj di fronte a Shukadeva Goswami non è che si accontenta di solito tra l'altro i saggi cosa fanno tipo Shukadeva Goswami risponde il primo tipo di risposta è una risposta generica cioè non generica ma un po' sommaria cioè dice delle cose cita delle cose e basta potrebbe essere anche presa così com'è ma dopo arriva come dire il cuore aperto di Maraj Pariksit che in quel momento ha piena attenzione a quello che sta ascoltando e quindi coglie e dice ma come mai mi ha detto questa cosa qua ma come mai è successo questo ma spiegami un po' di più ma come mai Krishna ha fatto quello mi ha detto che ha fatto quello ma come mai quel saggio è successo questo ma come mai oppure ma spiegami bene qual è il rapporto tra questo e quello cioè sono domande come dire che non disturbano ovviamente chi le chi sta spiegando ma anzi diventano proprio come dire una danno una nuova direzione al corso degli eventi al corso della storia cioè strutturano la storia cioè le domande che strutturano la storia è una cosa anche come dire che tipo di domande ci facciamo e quindi in che modo stiamo strutturando la conoscenza che man mano ci sta arrivando in che modo stiamo strutturando la nostra vita e quindi il nostro agire attraverso le domande che ci siamo posti non sono domande di dubbio ecco ecco vediamo anche il tipo di domande che fa che fanno Arjuna che fa come dire Uddava che fanno non sono domande di dubbio cioè che rimangono ferme il dubbio è proprio ferma il dubbio è ferma l'intelligenza non sono domande di dubbio cioè non mi hai convinto non ci credo questa roba qua ma sono domande di approfondimento di di come dice Arjuna ma le cose che mi hai detto sembra sembra difficile capitolo 6 sembra difficile lo yoga che mi hai spiegato come fermare una come dire come come dire fermare il vento un vento impetuoso perché la mente dice controllare la mente è più difficile che fermare un vento impetuoso cioè una tempesta dice ma come mai quindi è una non sta dicendo mi sta dicendo qualcosa che non mi convince ma io la penso così io credo che fermare controllare la mente sia difficilissimo come posso fare e Krishna risponde non si sente eh va stai mettendo in dubbio quello che ti ho appena detto che si può allora si può basta perché anche la anche la recezione della conoscenza non è passiva ma è sempre attiva ricordiamoci il Signore vuole persone intelligenti che si pongono belle domande fresche eh sempre di più cioè non domande che stanno lì come tante volte ci succede nella vita che ci giriamo sempre intorno a una stessa cosa solo perché siamo come dire eh non abbiamo desiderio di cambiare realmente o di ricevere veramente la risposta magari la risposta ce l'abbiamo di fronte a noi ma come dire continuiamo a a cambiare le parole pur di non cambiare noi stessi eh ma invece proprio le domande ce ne sono centinaia e centinaia e centinaia e grazie a quelle noi abbiamo il Bhagavatam grazie a quelle grazie anche a quelle abbiamo Ramayana tra l'altro perché anche Ramayana viene viene recitato dai figli di Rama che erano però Rama vabbè in quel momento così non li ha riconosciuti ovviamente non è vero però insomma la storia dice così ma sono proprio fatte di domande ma soprattutto il Bhagavatam soprattutto il Bhagavatam è proprio fatto sostanziato dalle domande così ho aperto questa parentesi perché è così perché perché è un argomento insomma a me è molto caro quello di di saper porci le domande giuste e quindi ascoltare quando ci poniamo le domande giuste allora saremo in grado di ricevere la giusta risposta perché di solito la risposta non arriva perché abbiamo posto la domanda sbagliata e quindi arriva la risposta arriva sempre la risposta ma per noi è sbagliata in quel momento bene non so se siete d'accordo ecco ditemi anche voi se siete d'accordo adesso siamo siamo pochi ho visto che ho proprio pochi spettatori quindi in qualche modo vi ho annoiato quindi scusatemi adesso riprendo Shri Udova disse caro Krishna i saggi eruditi che spiegano la letteratura vedica raccomandano vari metodi per rendere perfetta la vita considerate la varietà di questi punti di vista mio signore ti prego dimmi se tutti questi metodi sono ugualmente importanti o se uno di essi è superiore cioè lui sta dicendo tutti dicono cioè se noi leggiamo un libro tutti dicono questo è il metodo che risolverà la vita qualsiasi c'è anche un libro di business mi dice questo è il metodo che ti risolverà ti sistemerà ti renderà ti farà avere successo che è quello il tuo obiettivo eccetera ma qualsiasi scrittura dice questo è il metodo definitivo ma però sono comunque varie cioè non è che proprio sono tutti uguali e questo è effettivamente alcune sono mele alcune sono arance alcune sono pere alcune sono manchi alcune sono noci insomma ci sono varietà e dice ma quindi io come faccio a sapere quale è giusto se sono tutti uguali quindi possiamo dire tutte le strade portano a Roma insomma tutte le strade portano alla verità assoluta tutte tutte cioè quindi qualsiasi io sentiero intraprenda qualsiasi sentiero dell'odio che intraprenda io comunque arrivo lì proprio lì lui sta dicendo lì nel senso arrivo alla meta non che vado nella direzione giusta ma che arrivo proprio alla meta oppure no oppure c'è qualcosa che è come dire ontologicamente superiore ma per definizione superiore non perché lo sto facendo io lo sto facendo qualcun altro ma per definizione perché lo dice qualcun altro ma come dire che nella sua natura è l'essere è l'essere superiore e qua proprio si parla di metodi primari e di metodi secondari cioè ci sono dei metodi primari che ti portano all'obiettivo finale la realizzazione assoluta ma non solo realizzazione come liberazione ma proprio la piena il pieno sviluppo dell'amore cioè della nostra come dire la nostra dimensione spirituale pieno sviluppo che ci sono vari gradi e ci sono invece metodi secondari che come dire non sono necessari tanto quanto i primari ma possono essere di supporto ai primari ad esempio c'è vengono chiamati aropa sidabakti che sono tipo ad esempio l'offrire i frutti delle proprie del proprio lavoro cioè io sto lavorando ma alla fine comunque come dire riconosco il signore come l'autorità quindi come dire in un moto così interiore offro come dire do a lui il vantaggio di questi di questi frutti oppure c'è il sangha sidabakti questo è secondario il primo perché come dire è buono è un buon è un buon lavoro è un buon lavoro interiore però non è perfetto cioè non è in grado di portare all'obiettivo finale che è sviluppare l'amore per Dio cioè non è che attraverso quello io sviluppo l'amore questo è il punto può aiutarmi perché mi distacca dal mondo eccetera però non è automatico è quello non è una cosa cioè l'amore per Dio è qualcosa che è completamente trascendentale alla sfera materiale oppure c'è il sangha sidabakti che è sempre una bhakti però che ha a che fare con Ghyana e Karma ad esempio con Ghyana cioè il fatto che io mi posiziono sulla piattaforma del Satwaguna della virtù e quindi da là mi muovo e questo è Ghyana che me lo dà perché Ghyana mi fa proprio distinguere le cose mi fa vedere le cose e me le fa distinguere tra Ghyana Rajas e capisco che Satwa è meglio quindi mi metto lì attraverso la conoscenza cioè distinguendo mi posiziono lì quello si fa bene è una buona l'abbiamo già detto fa bene è un buono perché comunque insomma rischiare un po' le nubi proprio l'oscurità la rischiare un po' e mi mette in una posizione più stabile però non mi permette automaticamente di raggiungere la pura bhakti cioè il pur amore per il Signore il pur amore per Dio cioè non è che stando lì io automaticamente vado di là cioè dopo un tot di anni o migliaia d'anni o che ne so a un certo punto no no cioè comunque la bhakti è un salto o qualcosa che deve accadere da fuori non in base a quello che ho che ho fatto io oppure tipo il karma nel caso del karma non so io ho delle competenze tipo non so sono bravo magari non so a fare il manager e le do come dire le uso nel servizio devozionale cioè le uso quelle competenze per che ne so organizzare un tempio per fare che ne so per fare delle cose per il Signore è buono anche questo è buono cioè è un buon modo per usare i nostri talenti le nostre competenze ma non sono queste che permettono al nostro cuore di aprirsi cioè non sono neanche queste cioè io lo faccio sì è buono mi mette in una posizione come dire che divento comunque in parte uno strumento del Signore per fare del bene qua agli altri esseri viventi magari per muovermi bene sicuramente faccio meno danni che che ne so mettere quelle competenze al servizio invece di una multinazionale che che fa che produce armi è ovvio che insomma faccio qualcosa di differente ovvio ovvio però non è cioè la bhakti non è ancora strumentale a questo e quindi anche questi sono metodi secondari anche questo metodo secondario poi invece c'è la svarupa sidda bhakti che invece quello è servizio devozionale puro questo è questo svarupa sidda bhakti è il servizio devozionale il metodo primario ed è tipo la sviluppa sidda bhakti è fatto da i nove metodi del servizio devozionale che partono dall'ascolto e il canto svaravana e kirtana cioè queste invece sono come dire pratiche devozionali pure cioè io quando ascolto i nomi divini quando ascolto le scritture quando ascolto cioè ovviamente da come dire da come dire da un maestro insomma ecco ma quando quando lo ascolto la sto facendo servizio devozionale cioè sto applicando perché qualcosa di completa cioè si dice che il bhagavatam sia l'espressione fisica del Kali Yuga di Krishna cioè che il bhagavatam è come se fosse Krishna cioè è proprio la presenza di Krishna che noi non siamo in grado pensiamo che sia un libro ma non siamo in grado di percepirlo oppure l'Archavigraha la divinità oppure il nome divino si dice che non ci sia differenza alcuna adesso noi non lo capiamo io non lo capo cioè non lo capiamo veramente ma si dice che non ci sia differenza alcuna tra Krishna e il suo nome quindi quando io recito il suo nome sto facendo pure servizio devozionale magari lo sto facendo macchiato ancora da offese perché non è pienamente realizzata questa è ma magari però sto facendo pure servizio devozionale e quindi questo è primario e il punto è che il primario mentre il secondario può essere praticato anche da una stretta cioè da un pubblico ristretto ad esempio lo Ghyana Yoga non tutti sono portati per uno studio di un certo tipo Ghyana delle scritture insomma non tutti oppure non tutti sono portati alla meditazione la stanga a certe pratiche quindi per quello che anche sono secondari mentre il Bhakti Yoga cioè ad esempio ritornando all'esempio di prima lo Shravanam e Kirta l'ascolta questo lo possono fare tutti cioè non c'è non è solo per alcune categorie di spiritualisti allora te vai bene per questo te invece l'altro no questo lo possono fare tutti perché se no non sarebbe primario se no sarebbe così uno una delle tante cose bene adesso sono e 53 va bene possiamo andare avanti un altro verso allora dal verso 3 all'11 c'è la risposta di Krishna adesso ho appena detto ma io vedo tanti come dire tanti tanti sentieri ah no no aspetta non ho letto il 2 mi sono dimenticato di leggere il 2 mio caro signore tu hai chiaramente spiegato il metodo del servizio devozionale incondizionato cioè lo hai già fatto cioè Uddhava adesso non è così duro non è che non ha ascoltato non era attento alla lezione prima e quindi sta chiedendo qualcosa di nuove ma lo dice guarda che io lo so che tu hai già parlato del del pur servizio devozionale incondizionato grazie al quale un devoto rimuove dalla sua vita ogni contatto materiale diventando così capace di fissare la mente in te ma lui siccome è un metodo per tutti vuole essere sicuro che Krishna dia tutte le informazioni necessarie affinché tutti prendono in considerazione il servizio devozionale incondizionato perché questo è lo scopo della vita cioè questo è lo scopo cioè lo scopro lo scopo ed è questo lo scopo dell'Uddhava Gita cioè lo scopo della conversazione tra Krishna e Uddhava è come dire in tanti rivoli in tanti modi con tante immagini con tante storie con tanti racconti analogie ma con tanti non stratagemi ma con tanti anche non artifici perché sembra qualcosa di artificioso ma con tante modalità proprio dell'insegnante perfetto perché ricordiamoci Krishna in questo momento sta parlando a Uddhava ma Uddhava dopo dovrà portare il messaggio che ha appena ascoltato ed è il messaggio finale di Krishna quindi in tanti modi lui sta portando a questa vetta a questa comprensione vuol dire se una va ma adesso potete ne parlo in un altro modo con un'altra angolatura te lo spiego attraverso il Varnashrama te lo spiego attraverso il sogno te lo spiego attraverso l'attività interessata te lo spiego attraverso lo stesso te lo spiego attraverso tutto te lo spiego attraverso direttamente l'amore incondizionato delle copi te lo spiego in tutti i modi in modo tale che tu capisca cioè in modo tale che questo salto di paradigma avvenga non solo che tu capisca intellettualmente proprio l'altro giorno parlavo con una persona cioè la Bhakti non è qualcosa non è solo qualcosa non è un ragionamento la Bhakti non è un ragionamento non è perché io ti lascio spiegare bene ti faccio i collegamenti magari con la tua cultura e ti faccio degli esempi Socrate Platone cosa ha detto Machiavelli cosa ha detto e Um cosa ha fatto eccetera allora tu a un certo punto sì possono essere come giustamente come dire come fa Krishna posso essere un buon terreno in modo tale che tu ti metti i piedi stabili su una come dire su una base ma a un certo punto c'è il salto e io posso fare anche a meno di metterti quel terreno stabile magari te ne metto un altro cioè non c'è perché 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 non c'è nulla nel mondo che possa arrivare alla Bhakti nulla la Bhakti scende è lei che scende non è qualcosa che noi facciamo e quindi come dire adesso adesso ci siamo la Bhakti è un'apertura di cuore è una come dire è proprio è il la l'espressione della compassione è la compassione divina quindi leggo beh sono i 57 a dire la verità siccome avevo dimenticato del secondo ci possiamo fermare qua anche perché adesso ci sono 8 versi che è meglio che facciamo insieme per capire l'inizio della risposta di Krishna ditemi se ci sono Hare Krishna Nevia Hare Krishna a te se ci sono riflessioni domande gra vedo che oggi siamo pochini quindi vi ringrazio per chi ma comunque ringrazio perché insomma tanti mi scrivono e mi dicono ringrazio invece chi ascolta indifferita perché non può partecipare dalle 6 alle 7 quindi vi ringrazio tanto vi ringrazio perché insomma sto scrivendo adesso un piccolo articolo sul coraggio di Hanuman perché ci vuole coraggio insomma per mettersi e ascoltare mettersi come dire mettersi in riflessione e anche così per cercare di cambiare dentro ci vuole veramente coraggio quindi ci vuole non solo attenzione non solo organizzazione ma la cosa secondo me più grande ci vuole un grande coraggio quindi grazie veramente grazie a voi e ci possiamo vedere se non ci sono intanto parlato così per dare un minuto a voi a quelli che sono presenti se volevano fare una domanda fare grazie a te Joelle grazie a Nevia grazie a voi e ci vediamo allora martedì prossimo ecco le prossime settimane è non lo so sono delle X perché ci sarà come la maggior parte di voi sanno dal 28 al 12 ci sarà presente la Danaswami in Italia dopo tanti anni il mio maestro quindi non so se la settimana prossima riuscirò a tenere la lezione e credo proprio che il 6 settimane è possibile però perché è possibile che non riesca a osare a dire il mio desiderio però il 6 invece è facile perché so che c'è un programma a Bologna dove c'è la Danaswami e noi io spero proprio di essere presente quindi insomma sappiate che è possibile che nel prossimo martedì e quello successivo le lezioni non saranno insomma regolari ecco mi dispiace non mi metto neanche a fare dei cambi perché siamo tutti coinvolti con qualcuno perché siamo tutti coinvolti insomma nello stesso movimento e quindi insomma non chiedo piacere a nessuno è meglio se non ce la faccio magari salta direttamente la lezione la riprenderemo appena possibile sicuramente ecco sicuramente il 13 ma è possibile anche la settimana prossima va bene grazie ancora veramente grazie grazie e vi auguro il meglio Hare Krishna grazie